Una vecchia storia di cani dice che un tesoro sotterrato per più di un anno diventa proprietà del diavolo. Quando il diavolo prende la forma di un cane, veste sempre di pelo nero. Il nostro è un unico destino, la conservazione della specie. Il cane guardiano del tesoro si aggirava per le terre vicine. Una notte il proprietario di una di quelle terre lo curò, gli diede da mangiare e lo lasciò libero di tornare. Raida Eri, città distrutte, in cui la gente non sa nemmeno quello che sta succedendo. Che c'entra la guerra? Ce l'abbiamo in casa, Gaudì. Il giorno dopo il cane tornò, chiese all'uomo di seguirlo e lo guidò dritto al tesoro. Posso manca uccidermi? Ma non possono cambiare il corso della storia. Aspettò che l'uomo lo trovasse, poi andò via, senza nemmeno chiedergli l'anima in cambio.